benvenuti a nome di WeBank io sono Alan Vincenzo Gendusa oggi martedì 23 novembre 2021 abbiamo l'appuntamento con apertura dei mercati americani un must che facciamo ogni mese con Gianvito D'Angelo e Massimo Vita eccoli qua ciao e bentornati ciao Alan eccoci qua siamo pronti per la diretta e la parola a Massimo ciao a tutti due ore rilassanti dopo essere partiti dal dentista sicuramente stare con gli amici è una cosa migliore speriamo di poter essere utili a tutti voi e quindi buona visione perfetto facciamo vedere subito i recapiti per coloro che vogliono fare delle domande in diretta potete utilizzare whatsapp al 347 2803056 oppure la chat che trovate su youtube se volete contattarmi successivamente al webinar potete utilizzare anche la mail Alan Vincenzo punto gendusa chiocciola promotori punto banco bpm punto it mi raccomando fate la le vostre domande in anticipo in modo tale che io poi possa passarla ai nostri due relatori qua sotto trovate un codice promotore pf 52 118 questo è un codice fondamentale se volete diventare clienti webank dovete inserirlo nell'apposito spazio che trovate su la richiesta di apertura conto su webank punto it con questo codice vi assicurate un servizio di eccellenza totalmente gratuito ovvero l'assistenza diretta nel trading team webank in particolare con me mi raccomando questo è un servizio gratuito oltre a tutti i canali di accesso alla banca potete contattarmi direttamente una cosa fondamentale passiamo un attimo indietro perché il nostro disclaimer vi riporta alla pagina degli esperti e la pagina degli esperti la trovate sul sito webank punto it dove per ogni nostro relatore trovate il background formativo la metodologia operativa avete il curriculum vitae in questo caso con gianvito d'angelo avete i contatti gianvito d'angelo punto it e la pagina facebook e poi una watch list con tutti i webinar precedenti stessa cosa per massimo vita avete tutto quanto compreso chiaramente i webinar fatti in precedenza mi raccomando è importante per voi imparare a conoscere bene i nostri relatori modo tale che poi i nostri relatori sono lasciati liberi di parlare di quello che reputano sia più opportuno ragazzi prima di partire con i mercati americani ecco l'analisi di gianvito d'angelo vi voglio portare su un argomento particolare che è un argomento relativo alle opzioni ma più in generale un argomento relativo alla vendita di segnali operativi questo perché perché recentemente sono stato contattato dalla direzione della banca questo vi spiega anche come funzionano un po le banche dicendomi alan gentilmente devi contattare questo cliente perché stiamo provando a chiamarlo e non riusciamo a metterci in contatto e il cliente era fuori con i margini il cliente fa un'operatività in opzioni quindi per essere fuori con i margini vuol dire che aveva una prevalenza di opzioni vendute chiamo il cliente e il cliente era uno di quelli che aveva acquistato un servizio di segnali operativi sulle opzioni e non sapeva esattamente proprio che cosa fare e di conseguenza questo è un pochettino il assunto che mi ha dato in là per andare a vedere un po questo argomento di cosa si tratta prima cosa da sapere la banca massimo tu ne hai probabilmente più più di tutti non consapevolezza la banca non è tenuta a chiamare un cliente che è uscito fuori con i margini noi di we bank però siamo una banca fatta di persone e cerchiamo là dove è possibile farlo di contattare il cliente dicendoli guarda sei fuori con i margini quindi puoi fare due cose sostanzialmente o fare un bonifico di integrazione per i margini che ti vengono richiesti dalla cassa di compensazione e garanzia oppure chiudere delle posizioni è un servizio giusto massimo non siamo tenuti a fare ma noi lo facciamo sempre molto molto volentieri detto questo io vi porterei tutti e due su il discorso dei segnali operativi e faccio vedere un po qual è la logica che sta dietro nella costruzione di questi segnali sulle opzioni gianvito vuoi dire qualcosa tu in generale sui segnali operativi ma guarda è una è una cosa con cui io tu lo sai insomma mi sono cimentato tantissimi anni fa nel nel 2011 dare segnali a una persona che non condivide il diciamo i tuoi principi dal punto di vista comportamentale e come pensare di condividere gli stessi valori con uno che ammazza i bambini cioè per dirtela in maniera estrema cioè cosa vuol dire vuol dire sostanzialmente che se io dico anche a una persona compra qui e vendi lì quindi la cosa più oggettiva che esiste al mondo perché non è suscettibile di interpretazione sono livelli tu dovresti prendere la tua piattaforma inserire gli ordini esattamente su quei livelli che ti ho detto è finito il tuo lavoro perché non c'è nulla di discrezionale ma non c'è mai nessuno delle persone che seguono segnali che replica esattamente a patto ovviamente che il segnale sia buono che replica esattamente la performance di chi lo dà quindi ci sarà un motivo è impossibile che siano tutti stupidi oppure che i segnali siano tutti diciamo non validi quindi questo che cosa vuol dire vuol dire che prima ancora di andarti a far vedere o a dirti dove entrare e dove uscire la cosa che io dovrei fare invece di darti il pesce la canna da pesca perché se tu condividi e conosci esattamente i principi operativi attraverso cui io mi muovo tu non solo non hai più bisogno di me per avere segnali ma addirittura se io e te andassimo a pubblicare in una ipotetica chat pubblicheremmo esattamente la stessa cosa nello stesso momento sugli stessi livelli di prezzo perché perché abbiamo applicato le stesse identiche regole ed è quello che nella mia esperienza tant'è che io fino al 2011 diciamo insegnavo e non insegnavo comunque sia in qualche modo divulgavo la mia metodologia di trading che comunque non era ancora la super analisi tecnica perché quella diciamo è venuta dal 2012 in poi ma comunque sia avevo una metodologia per lo più classica e per lo più di breve periodo però comunque la già la stavo iniziando a divulgare però cosa accadeva che se tu in qualche modo punti più sui segnali che sulla divulgazione e quindi sul condividere gli stessi principi hai sempre una risparietà di performance non c'è niente da fare invece più le persone condividono i tuoi principi e più è facile da un punto di vista statistico che quello che tu fai quello che fanno gli altri pur non dicendogli nulla sia esattamente la stessa cosa perfetto condivido appieno allora massimo se tu sei d'accordo adesso entrerei un po' nel nel tecnico con te visto che sei comunque sicuramente competente sulle opzioni per cercare di spiegare le logiche che stanno dietro alla vendita di un segnale di trading sulle opzioni devo dire che questo segnale è venduto molto bene perché diciamo quello che dicono è allora creiamo delle strategie in opzioni che se il mondo dovesse crollare quindi se ci dovessero essere dei cilinieri noi non perdiamo mai ok ed è già un'impostazione direttamente di direi condivisibile interessante e andiamo a vedere allora quali stanno le logiche dietro questo tipo di segnali lo faccio per cercare di mettervi a conoscenza di alcune cose senza chiaramente demonizzare nessuno e ci mancherebbe altro però per cercare di capire abbiamo bisogno della piattaforma bitrader che è una piattaforma di play option punto it quindi potete andare a vederla lì sono dei nostri partner allora questo è l'option panel quindi il pannello delle opzioni strategie costruite mensilmente sul dax e qua sopra mi raccomando avete una casellina che vi ho aggiunto importante che è la profit probability cioè la probabilità che la nostra strategia sia porti dei soldi quindi sia abbia un successo alla fine alla scadenza ora se io dovessi creare un segnale di trading giambito posso mettere un segnale di trading che dice guarda questa strategia al 50 per cento di probabilità di successo cioè ok tu mi dici vabbè ma non è tanto attraente no allora la probabilità deve essere sicuramente superiore al 50 per cento per avere un segnale di trading cioè se ti dico guarda ti do una strategia che ti dà l'ottanta per cento di successo allora chiaramente tu come acquirente sei molto più invogliato a farla ora questo tipo di strategie che portano una probabilità di successo elevata e mantenendo quella assunzione di base cioè non perdere se il mercato scende vengono create esattamente con la vendita di opzioni out of the money quindi mettiamo in real time tutte le nostre opzioni ci spostiamo sul lato call prendiamo 500 punti più alto e vendiamo un'opzione call questa è una strategia che qualsiasi qua sopra vedete no il grafico qualsiasi cosa succede nel mercato chiaramente mi porta in guadagno in questo caso 185 euro è chiaro che il mio lato negativo di questa posizione di questa strategia è se il mercato sale perché se sale fino a un certo punto io continuo a guadagnare dopodiché inizia il mio fattore di rischio ora guardate la probabilità se io vendo un'opzione call out of the money io ho una probabilità di successo di circa 75 per cento che è una buonissima probabilità ok chiaro mi devo cercare di concentrare soprattutto su quel 25 per cento di probabilità che può essere negativa allora che che cosa succede siccome questo tipo di strategia forse perché è troppo semplice ha un fattore di rischio se il mercato sale è ragionevole utilizzare questo tipo di logica dice ok ma se il mercato sale posso fare qualcosa che mi può quantomeno attenuare o comunque portare un guadagno se il mercato sale bene quello che viene fatto è questo cioè andare a creare uno spread rialzista cioè compro 16.002 vendo 16.003 cioè ho un guadagno di 100 punti se il mercato dovesse salire qua graficamente vedete che trovate una gobba a scadenza la linea blu è la il diciamo il payoff a scadenza vedete che sale quindi se poi il mercato si ferma all'interno di questa gobba chiaramente il guadagno è migliore però che cosa è successo è successo che la parte bassa sia abbassata quindi l'unica l'unico sistema che viene utilizzato è quello semplicemente di aggiungere un'opzione venduta nella mia call otm a questo punto io che cosa ho fatto alzato la mia strategia se il mercato scende porterò guardate qua e texpari porterò 175 euro di guadagno se il mercato sale addirittura il mio guadagno potrebbe aumentare ora questo tipo di strategia può essere anche diciamo più complicata in questo modo cioè aggiungere un'opzione comprata se aggiungo un'opzione comprata mi si abbassa la parte sinistra e massimo guarda che cosa devo fare devo aumentare le mie opzioni otm vendute questo è il meccanismo che viene utilizzato per creare la nostra strategia strategia che mi raccomando massimo che cosa ne pensi di questa strategia vediamo primo impatto primo impatto dobbiamo ricordare come ci ricordate sempre voi dalla banca che le opzioni non sono solo la leva finanziaria ma sono anche la leva della leva per cui se cominciate a vendere e lasciate le opzioni scoperte non importa che il 75 per cento delle volte andate in positivo come ci insegna anche gian vita vi dovete dire quando perdete quanto perdete perché io posso anche andare in profitto 8 9 volte su 10 però se poi quella volta come succede purtroppo nella realtà non importa se uso le opzioni o anche altri assumenti finanziari abbandono qualsiasi operazione il mercato in questo caso se decolla e io lascio andare l'operazione senza dipenderla possono fare dei disastri ricordiamo abbiamo quando nell'altra vita faceva speriamo che torni presto l'altra vita facevamo gli eventi insieme cosa è successo a febbraio del 2018 con chi vendeva le opzioni qualcuno è andato veramente anche in rosso quindi queste sono cose che vorremmo evitare per quanto riguarda quello che dicevi tu chi vende segnali noi da un punto di vista proprio etico non abbiamo nulla in contrario colleghi amici che facciano una cosa del genere il problema è come diceva giambito che io oggi avevo un ottimo segnale però magari avevo il cane che stava male dovevo portare il veterinario piuttosto che avevo il dentista eccetera non riesco a replicare fedelmente qualsiasi tipo di operatività anch'io sono d'accordo con giambito quando lunedì vado in tv da emery piuttosto che quando davide e stefano mi invitano a market briefing oppure domani mattina sarò a fare l'apertura dei mercati con vision forex dico ai miei amici del mio canale qualsiasi strumento finanziario qualsiasi metodo lo potreste che io diciamo propongo a mio rischio pericolo ed eseguo a mio rischio pericolo potreste farlo anche voi perché condividete assolutamente lo stesso segnale ma non importa perché noi vediamo che la parte reale è completamente diversa quindi non commento la strategia perché la strategia in ogni caso va coperta diciamo nella in quel 4 5 per cento delle volte in cui il mercato ti va in estremo non ti difendi più e sempre lì leva della leva quindi ci salviamo solo con importi minimi succede un evento estremo il dax va a 17 mila perché domani fanno il governo sto dicendo un esempio devi sapere qual è lo scenario cui va incontro esatto bravissimo spendiamo anche due parole insomma a favore di chi è avvenuto questi anni anzitutto è sicuramente un'impostazione buona nel senso che se diciamo il lato negativo cioè se il mercato crolla è coperto da questo caso quindi poi se il mercato dovesse salire e lo fa con del tempo il tempo è diciamo a favore di questa strategia e se il mercato sale la volatilità implicita delle opzioni scende anche questo è a favore di questa strategia detto questo non ho replicato esattamente gli strike come sono stati replicati l'ultima volta però è l'impostazione è questa e quindi adesso vi voglio spiegare il baratro cioè da questa strategia dov'è che entra la crisi per chi compra il segnale e non è consapevole esattamente in quello che sta facendo perché se da un lato chi vende i segnali deve avere la probabilità di successo dalla propria parte altrimenti sarebbe un servizio non vendibile c'è un'altra questione che è il margine quanto margina questa strategia allora abbiamo bisogno a questo punto della piattaforma t3 e io ve l'ho fatto eccolo qua quindi abbiamo le nostre quattro call 16.500 vendute e poi tutte le altre margine 8463 e qui c'è una cosa che dovete imparare assolutamente a comprendere quello è il margine che vi chiede la banca che vi chiede la creating house in questo caso dell'eurex per quella strategia come composta oggi 8463 io dico massimo è ragionevole dire che se ho 10.000 euro sul conto posso fare una strategia di questo tipo non esiste assolutamente ma forse neanche con 50.000 voglio dire il problema è dove ti va il margine se l'operazione ti va al 3% contro ci sono gli strumenti anche per calcolarlo e lo calcoliamo massimo mettiamo eurex 7 andiamo a prendere la nostra opzione 16.500 se va atm equivale alla nostra opzione 16.000 ora è giusto come ragionamento quindi aggiungiamo ai margini al calcolatore margini eurex 7 poi abbiamo la nostra 16.400 che diventa come questa opzione cioè la 15.900 la aggiungiamo ai margini al calcolatore margini abbiamo la nostra 16.300 che diventa come esattamente la 15.800 e abbiamo la 16.200 che diventa esattamente come come questa andiamo a mettere in portafoglio meno 4 1 meno 1 e 1 esattamente cosa abbiamo fatto abbiamo replicato la nostra strategia di partenza ok come se il mercato avesse fatto più 366 per cento più o meno ok come se avesse diciamo portato anzi meglio più correttamente come se avesse portato la nostra opzione più otm la 16.500 l'avesse portata a essere un'opzione atm andiamo a vedere un po' i margini eccoli qua i margini sono aumentati sono quasi raddoppiati quindi una vostra strategia che aveva un margine di 8.000 euro adesso ne ha quasi 16.000 questo voi lo dovete comprendere però qui succede una cosa importante massimo che è questa che se io dico di creare una strategia una strategia che per me essere messa in piedi ci vogliono 10.000 euro di di soldi no di liquidità è un conto se io ti dico che quella strategia invece per essere messa in piedi ha bisogno di 50.000 euro o di 10 o di 100.000 euro chiaramente è di non è più vendibile come prima no perché chiaramente il ROI cioè il return of investment chiaramente è diverso ed è diverso anche la disponibilità materiale che hanno le persone ora una persona con 10.000 euro non può fare quel tipo di strategia a prescindere da quello che è poi la parte più importante cioè la gestione di una strategia mi raccomando perché se succede qualcosa il mercato vi fa più 3 per cento i vostri margini che erano 8.000 diventano 16.000 e lì andate in sofferenza e la banca vi chiama e quando la banca vi dice che cosa voi fate cosa vuoi fare la risposta sai qual è massimo boh ha il discorso secondo me scusate che mi permetto non è solo per strategie di opzioni facciamo l'ipotesi che sia collegata adesso un amico che non sappia nulla di opzioni discorso è più in generale sulla leva finanziaria se io ho un conto da 10.000 euro o da 20.000 euro per cui webank mi consente di fare un dax intraday con 15.000 euro non ha senso farlo perché io devo guardare il controvalore 16.000 sono circa 400.000 il controvalore dell'operazione una variazione sfavorevole del 2 per cento sono meno 8.000 sul conto con un conto da 20.000 se vado a 12 ho finito di fare trading perché da 12 a 20 non arrivo più noi diciamo spesso che si può anche perdere non con la leva eh diciamo utilizzata una volta quindi senza utilizzare le opzioni solo con la marginazione ma si può perdere anche a leva 1 quindi qualsiasi strumento finanziario voi facciate se avete 20.000 euro sul conto non è ragionevole perdere più di tot per cento per singola operazione ma qua diciamo che Gianvito può essere un po' più ehm qui arriva il coach guarda io io penso sostanzialmente due cose la prima che molte persone fanno opzioni perché pensano che sia la soluzione al fatto che non sanno dove vanno i prezzi e la verità è che anche dopo che hai fatto un po' io non sono bravo in opzioni anzi direi che fra quelli presenti sono l'ultimo però so una cosa che non posso esimermi dal capire comunque o per vedere in qualche modo in maniera corretto o sbagliata devo andare i prezzi devo comunque devo comunque sapere mentre invece molte persone pensano già visto che comunque è più difficile capire dove andare esattamente i prezzi allora facciamo lezioni perché ho un po' più di probabilità a mio favore non è detto con quello che abbiamo appena detto adesso col fatto che le immagini cambiano e col fatto che le opzioni sono oggettivamente molto più difficili perché perché spiegarti che cos'è il DAX quanto va il valore punto al valore nominale ci metto trenta secondi a spiegarti il funzionamento di un'opzione e soprattutto a creare una strategia ci vuole da un punto di vista teorico molto di più e anche dopo che io mi sono letto un libro intero in opzioni così non so ancora guadagnare in opzioni quindi capite bene che intanto non mi posso esimere quindi devo comunque capire o prevedere da qualche da quale lato andranno i prezzi primo seconda cosa nel momento stesso in cui io capisco questa cosa sono libero cioè non libero perché mettiamo conto che alan campi anche 120 anni ma se alan non mi dà più segnali o che faccio non vivo più non campo più non compro più il giocattolo mio figlio perché alan non mi dà più segnali cioè anche questa cosa mi metterebbe addosso uno stress enorme allora la cosa migliore qual è è cercare di avere quella certa di autonomia che mi consente in maniera appunto indipendente di capire esattamente più o meno dove andranno i prezzi e quindi poi impostare una strategia che poi sia con opzioni che sia con i cover warrant che sia con il sottostante poi quella è una cosa che vi gestirete ragazzi nel modo in cui vorrete ma la cosa principale è a capire dove vanno i prezzi e b farlo in maniera autonoma indipendente queste prime sono i due must da cui bisogna partire secondo me per fare trading siate consapevoli e siate prudenti sempre allora cerchiamo adesso di entrare nel vivo andando a vedere i mercati massimo e cercando di dare quegli spunti no intellettuali che che aiutano ad avere più consapevolezza di quello che vediamo vai condividiamo magari lo schermo per chiudere l'argomento che è un argomento diciamo più tendente alla scorciatoria mentale nella nostra esperienza di assistenza gratuita io personalmente ho avuto l'onore grazie a we bank che mi ha invitato spesso tutti gli eventi anzi oggi salutiamo gli amici che stanno facendo l'itf forum fisico al palazzo delle stelline salutiamo loro ma naturalmente seguite noi di aver visto tantissimi amici che dicono bene io ho sciolto una put su un titolo importante come se va male mi prendo il titolo con uno sconto eh cioè l'utilizzo delle opzioni per aggiustare una cosa che non è andata questo non funziona eh già invito io così prima di siccome manca mezz'ora tra due mercati americani eh questo pavimento daily sul dax ci sta non ci sta che così mi fai fare mi fai fare gollo a porta vuota dai allora vedete ehm quando abbiamo una chiave di lettura eh massimo su questo scherza e io ovviamente è stato scherzo perché perché eh quando hai un'uniformità di vedute non dico che diventa tutto totalmente facile però sicuramente il fatto di saper leggere un grafico e non avere sempre questa sorta di indeterminatezza su dove andano i prezzi ti abbassa il livello di stress e quindi ti fa vivere anche la giornata in maniera in maniera più rilassata perché sei in qualche modo diciamo consapevole allora di cosa stava parlando massimo in questo caso vi faccio vedere allora disegno sul grafico vedete che ovviamente e questo è un grafico daily e e il mercato vedete che in questo momento ha fatto un minimo eh ovviamente qui sotto allora la domanda è questo minimo che ha fatto qui sotto in qualche modo potevamo immaginare che il mercato lo facesse e in qualche modo quindi potesse fermarsi qui visto che ovviamente in ottica di lungo periodo il trend rimane long e spero che questa cosa non venga messa in dubbio da nessuno malgrado il mercato vedete abbia fatto comunque delle candele rosse e in più li abbia fatto con minimi e massimi decrescenti vedete se lo mettessi in intraday qua vedrei una sorta di canale dove il mercato vedete ha fatto di fatto sequenze di minimi e massimi più bassi vedete tutti quindi se io vedete vado a tracciare una linea qua vedete arrivo più o meno ricordiamoci sempre che è un'area ma è un livello è un livello dove hanno precedentemente funzionato vedete dei breakout dei massimi dice ma perché il mercato si è andato a fermare per lì quanti quanti minimi e massimi ci sono sui prezzi ve li sto segnando tutti dove il prezzo sulla carta poteva fermarsi nella discesa ce ne erano 50.000 eppure il mercato si è fermato esattamente lì perché perché se voi ci fate caso tra tutte queste candele che io vi ho segnato più o meno da qui a qui vedete che l'unico caso in cui breakout dei massimi hanno funzionato è esattamente il livello dei minimi di oggi quindi che questo che cosa vuol dire vuol dire che il mercato avrà memoria di quel livello perché lì probabilmente una massa anzi direi con certezza una massa di investitori perché dico con certezza perché essendo avvenuto nel passato questo grafico non si può non si può cambiare in nessun modo se la candela fosse informazione potrebbe dire che io la vedo così ma magari stasera chiude qui e quindi in realtà quel breakout non ha funzionato ma visto che quel mercato stiamo parlando di una candela che è già chiusa automaticamente è immutabile e se è immutabile è certo che una massa di investitori si hanno entrato i long e soprattutto l'abbiamo fatto in breakout sapete secondo assioma della superanalisi tecnica che i breakout sono un fenomeno non frequentissimo accadono ovviamente ma non è frequentissimo al massimo due volte due due tre volte al massimo su dieci eventi e totali e quindi questo sarà un punto di cui il mercato avrà memoria dove è molto probabile che la spinta longa riprenda in qualche modo vigore ma soprattutto che chi ha aperto posizioni short è probabile che proprio su quel livello dove i long quindi quelli che hanno visioni opposte del mercato riprendono vigore è molto probabile che in quella zona loro vadano a liquidare le proprie posizioni ribassiste avrei due domande che secondo me sono di interesse generale uno se dovesse chiudere così il mercato ancora una giornata naturalmente lunga questo chiude alle 22 no anche se il grafico daily del dax purtroppo c'è questa particolarità che ci segna la chiusura delle 17 30 ma comunque se il grafico chiudesse così si potrebbe dire che nonostante le quattro candele rosse il dax non abbia venduto minimi cosa diresti tu con una chiusura del genere sì esattamente bravissimo esattamente non ha venduto minimi vuol dire nel nostro gergo di appunto di supertrades che il mercato non ha fatto funzionare i breakout dei minimi su minimi dei giorni precedenti se voi ci fate caso esattamente questo malgrado il mercato abbia fatto sempre vedete minimi più bassi ma se voi ci fate caso il breakout i breakout dei minimi e in più oggi vedere con che shadow il mercato è andato è andato ad affondare ma poi anche a riprendersi quindi in qualche modo posso dire che i breakout dei minimi non hanno mai funzionato e questo è un tipico caso di ritracciamento perché perché in un mercato che ha un trend di di rifondo che è rialzista se voi ci fate caso nei ritracciamenti quasi mai vende minimi vedete e questo appunto ci fa pensare che il trend long al momento sia intatto malgrado appunto quelle tre quattro candele con quella di oggi siano ancora rosse ecco se invece stringiamo il time frame a come fai come spesso hai fatto vedere tu in queste magiche lezioni su un grafico magari 30 minuti togliendo anche magari una regressione che non ha ok noi oggi avremmo la possibilità appunto di intervento anche per un'operatività un po più stretta in tra dei allora è chiaro che il segnale inteso come analisi va fatta sempre dal daily in su questo se vogliamo ovviamente dare una sorta di respiro leggermente più ampio al nostro trading però poi è chiaro che io devo andarmi a prendere il punto esatto di entrata sempre in ottica intraday perché se non facessi questo avrei sempre uno stop enormemente grande perché perché se io lavoro sul grafico daily è chiaro che lo stop avrà come valore medio il range medio perché quello è il appunto il il range delle candele è chiaro che più alto il time frame più alto sarà lo stop noi cerchiamo di prendere il meglio dal grafico daily oltretutto anche weak and monthly in ottica di robustezza del segnale ma poi in ottica di ampiezza dello stop andiamo in intraday per andare a cogliere il punto esatto con uno stop piccolo ma con una robustezza del segnale grande questo che cosa vuol dire vuol dire che se io ho identificato quella come area da difendere vuol dire che se io vado anche in intraday devo in qualche modo cercare di non aumentare il numero di livelli che prendo perché è chiaro che se io sul grafico interay ci comincio a mettere 3 4 5 6 10 livelli poi man mano che il mercato li vada affrontare sarei tentato di provare long su ognuno poi cosa succede che lo provo nove volte nove volte fallisco poi arrivo sul decimo la decima volta che magari come abbiamo visto è quella buona e poi non lo faccio perché magari mi sono disamorato e ho chiuso il conto mi sono messo a fare altro quindi eh il nostro tipo di trading prevede normalmente su ogni strumento una massimo due segnali al giorno poi quello che possiamo fare visto che lo stop intraday e il profit potenzialmente multiday è quello di provata ad andare overnight nel caso in cui ovviamente la strategia lo consenta ecco una domanda che mi fanno spesso è noi abbiamo fatto vedere insieme che in ambito di eh segnale long multiday noi cerchiamo eh abbiamo sempre eh detto tramite idee di prendere a riferimento minimi del giorno prima e minimi della notte per vedere degli eventuali break in oggi abbiamo visto che eh siccome avete visto anche che noi guardiamo anche la volatilità no il boost ox ad esempio che in fase di aumento quindi diventa anche interessante anche l'intraday oggi abbiamo visto dei movimenti curiosi perché abbiamo visto la mattina il boost ox al decollo anche più 5 per cento e i mercati vengono giù poi il boost ox scende dai massimi quindi dalle 10 al mattino in in base ai mercati avviene coerentemente con eh boost ox in calo adesso il boost ox sta ancora calando guardate un po' cosa sta facendo il DAX è proprio quello che diceva Gian Vito l'impostazione di medio ancora long allora ti faccio una domanda difficile naturalmente noi sappiamo che uno stop sarebbe eh molto ampio adesso noi poniamoci sempre dal punto di vista di chi oggi vuole andare long ma eh ancora non ha aperto delle posizioni il break in di queste minimi ha senso con uno stop così elevato direi 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 no con uno stop così elevato dove potremmo cercare una una zona per andare long adesso nella giornata in realtà il come dico spesso ai miei studenti il modo migliore per andare long oggi eh nel momento ad esempio in cui funziona il breakout dei massimi era quella di di andare long ieri il che sembra paradossale dice me lo stai dicendo sì perché in questo momento il grafico mi sta dicendo che non è il caso di fare quello che io ho in mente sarebbe stato bellissimo andare stamattina long non ci stavo non l'ho preso non l'ho visto non è un problema anche se noi ti dico la vita abbiamo come come status mentale quello di eh fare prima la strategia cioè ogni super trader ogni volta che apre un grafico deve già sapere su base monthly weekly daily che cosa deve fare e come diciamo noi in gergo su che gamba sta perché quando il mercato sale 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 in questo lo diciamo sempre sale in questo modo o in questo modo e se scende scende in questo modo oppure in questo modo quindi vedete che sia in strategie ribassiste che rialziste abbiamo sempre delle gambe che vanno dalla parte opposta di quella dominante lo vedete stessa cosa ovviamente per quella rialzista su quella rialzista ad esempio se io qui avessi un massimo precedente io potrei andare short di breve qui in break in e poi dovrei provare a trattare una gamba dominante long ma comunque questa gamba è ribassista quindi sarebbe apparentemente incoherente dirti cavolo io sono andato short in un giorno in cui tu mi avevi detto che avevi una strategia long sì però io devo inquadrare quel short in ottica di breve e sapere che poi devo andare long in ottica di lungo ma se io ho tardato perché sappiamo che gli orari in cui entrare sono li sanno tutti soltanto ogni volta ci stupiamo sono o a cavallo dell'apertura del mercato parlo dell'azionario del cash europeo o a cavallo di quello americano non è che ci sono tre mila serie a poi ci sono delle eccezioni al caso delle tecniche che per entrare la notte oppure ci sono dei brecchine che spesso adesso avvengono da due o tre anni a questa parte sul nasdaq dalle cinque alle sette e mezzo di sera ma sono comunque diciamo dei delle non dico delle eccezioni però comunque delle estensioni rispetto allo standard che è e sarà sempre così è normale che quando una massa di operatori arriva sul mercato perché apre una borsa o comunque tutti quelli che sono su quel fuso orario è ovvio che ci sia una sorta di assembramento e quindi che molti vadano a inserire ordini sul mercato e quindi noi dobbiamo andare a sfruttare esattamente come ti ma se quel momento ragazzi non siamo riusciti a sfruttarlo tranquilli abbiamo nessun tratto professionista segue un solo mercato andiamo su altre ci sono le materie prime ci sono le valute ci sono gli indici azionari oltre al fatto che ci sono poi anche le singole azioni e allora per quale motivo dobbiamo dire adesso devo entrare per forza sul dax lo diceva prima massimo sta qua sopra adesso lo stop se io entrassi long lo dovrei mettere enormemente più in basso a maggior ragione perché ho un'ottica in zadei mi posso prendere uno stop preso di 100 punti in ottica in 3 sul dax assolutamente no e allora facciamo quello che diceva giambito andiamo a vedere gli altri mercati se il dax non è interessante per entrare vediamo un po cosa succede con l'asdaq io intanto volevo fare un attimino un passo indietro ricordiamoci sempre chi siamo da dove veniamo siamo dei degli ospiti e quindi non abbiamo ancora salutato e ringraziato simona la responsabilità degli eventi che ci ha fatto un bellissimo calendario già inizio anno e appunto finiremo in in dicembre vi anticipo così quello facciamo vedere alla fine che oltre alla giornata di oggi ci sarà il 14 dicembre doppio ci sarà al quattro ore al mattino nella quale giambito verrà alle 11 e mezzo come sempre ma poi lui ripete con alan no ripete sì alle 14 alle dalle 15 un'ora poi ci sarà ancora giambito il 17 e poi finiremo insieme con alan il 21 quindi 14 7 e 21 non giocatevi se li dovete giocare che ormai sulla ruota di bologna che non esiste e poi così poi alla fine eventualmente ci auguriamo luce donale 20 buon natale quindi io naturalmente ringrazio simona e tutto il team di webank ricordiamo ci associamo a quello che ha detto prima alan stiamo facendo vedere delle analisi io sto rischiando appunto mio rischio esclusivo delle operazioni long sul dax in questo momento anche sui sull'intraday sta andando in in positivo quindi mantengo le le mie operazioni long mi potete scrivere anche giambito se ogni tanto facciamo appunto rivedere i nostri capiti perché magari non tutti gli amici riescono a stare due ore vi invito a fare appunto un altro giro di recapiti prima di però siccome stavo parlando del nasdaq avevo fatto una slide ieri nella quale facevo vedere che con un grafico quattro ore da da inizio ottobre non si vedeva un movimento dal 1 per cento quindi comincia a diventare interessanti movimenti guardate grafico variazione solo i primi di ottobre è naturalmente i primi di ottobre curiosamente questa variazione maggiore dell'uno per cento quattro ore arriva curiosamente identificato un minimo sarà ancora questa volta lo vedremo tra un attimo prima però di fare un giro di condivisione di eh di recapiti sì allora ti condivido ti condivido i miei eccolo qua allora vi faccio vedere vi faccio vedere il il intanto eh il la la mail per chi non è amante dei social potete scrivermi a superjambi chioccio a gmail.com mentre invece se amate i social potete chiedermi di entrare nel gruppo traders eh c'è c'è una sorta di questionario da compilare mini e compilandolo appunto si ha l'approvazione non lo compilate non c'è l'approvazione non insisterò per farvi entrare perché verrete automaticamente scusi perché vedo che ogni giorno ci sono persone che magari ci ha scritto per entrare devi rispondere alle domande e non rispondono e fanno comunque la richiesta non vi accetto cioè non non c'è l'ho detto pubblicamente mi sono compromesso allora e poi se vi va potete mettere anche il mi piace la la mia pagina che appunto ovviamente si chiama Gianvito d'Angelo teni in come non l'hai mai visto tutto qua ma perché non rispondono perché non vogliono studiare non vogliono fare compi vogliono solo andare dietro a quattro candeline colorate che è bello è divertente magari adremmo ma quello è gambling è ludopatia non è non è trading allora Gianvito scusa che poi Alan quando tu ritieni naturalmente di condividere i tuoi di recapiti vuoi fare un giro anche tu adesso? facciamo dopo? non ti sentiamo? non ti sentiamo Alan? Alan l'audio è disattivato? sì vabbè facciamo vedere dopo vediamo i mercati che ci avviciniamo all'apertura americana e ci fanno richiesta anche di vari mercati quindi oggi spazieremo un pochettino anche su altri strumenti ok allora per i amici che ci stanno seguendo acceleriamo con una panoramica di mercati Gianvito questo è Nasa che ieri curiosamente ha fatto il movimento classico di Gianvito la gamba 1 rialzista, la gamba 2 boom braccio di ferro al ribasso ecco come commentiamo questa candela fa spaventare qualcuno? assolutamente sì anche perché oggettivamente guarda quanto è più ampia parlo sempre di range non di body ragazzi il body è anche ampio però se guardiamo il range sarebbe sulla carta ancora più preoccupante c'è stato oggettivamente nel ribasso un grande aumento di volatilità quindi molti potrebbero dire che paura si vede no? poi vedete anche vedete sotto c'è l'everest true range quindi misura proprio la distanza in maniera documentale in realtà bisogna dare conto anche di gap e lap che però sul Nasdaq sono molto rari quindi vedete che quello lì rappresenta di fatto la differenza media fra minimo e massimo che in questo caso ripeto è veramente molto molto ampia però la domanda è ok abbiamo toccato i massimi adesso sprofonderemo iniziato io leggo ancora di cose iniziato il grande ribasso leggo su youtube cioè leggo vedo su youtube un sacco di video allarmistici perché giustamente le persone davanti alla brutta notizia cliccano davanti a un bambino ha trovato il suo sacchiotto preferito non clicca nessuno psicologicamente purtroppo è così allora la cosa che dobbiamo fare è valutarlo noi in maniera più oggettiva possibile ragazzi allora il fatto che il mercato sia sceso e sia sceso con un aumento di volatilità oggettivamente non è buona cosa perché sappiamo che volatilità e trend negli indici azionari sono inversamente quali cioè il mercato dovrebbe salire arrancando come è giusto che sia soprattutto come è naturale che sia un mercato che arranca in salita è un mercato sano a differenza di quello che credono molti diciamo il mercato sta arrancando sale sale ma piano 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 è cosa buona se il mercato fa barre di espansione verso l'alto salendo mi devo cominciare a preoccupare mentre quando scende è fisiologico che la volatilità aumenti ed è anche un fatto psicologico perché chi vende ed è di fondo sempre long se vende perché lo fa perché è colto dal panico o si sta mangiando un guadagno che aveva oppure sta iniziando a perdere in tutti e due casi ha dentro di sé un animo agitato questo è il motivo spiegato in maniera rudimentale allora se è così dobbiamo cominciare a pensare ok il mercato sta scendendo giusto la volatilità sta aumentando ok ma dove si potrebbe fermare visto che il trend di fondo spero che anche sul nasdaq nessuno lo metta in dubbio è decisamente long questa domanda che ci dobbiamo fare la risposta è basata sullo stesso schema che abbiamo usato prima sul dax vi ricordate prima quello che dicevamo riguardo quelle che io ho ideato che ho chiamato aree da difendere cioè delle aree dove se una massa di investitori è entrata da un lato nel momento in cui il prezzo dovesse tornarci è molto probabile che chi è short liquidi e chi è long si rimetta tra virgolette in posizione o attiri comunque nuovi compratori allora che cosa dobbiamo fare sul grafico dobbiamo andarci a mettere i livelli dove è molto probabile che appunto abbiano funzionato i breakout e il molto probabile sarebbe in realtà certo perché abbiamo detto essendo candele passate e quindi immutabili o hanno funzionato o non hanno funzionato non è che ci sia molto da dire allora se noi vediamo qui allora qui è un caso un po come posso dirvi particolare nel senso che non è così palese per chi magari non ha molto allenamento sui grafici vedete che qui ovviamente il prezzo in questa fase è salito e vedete che da un lato io sarei tentato di metterci questo livello qua perché vedete che questo livello qua è il livello dove oggettivamente nella penultima candela verde hanno funzionato i breakout però se voi ci fate caso se andiamo a vedere direttamente il giorno ancora precedente cioè questa candela qui che è stata a sua volta una candela dove il mercato ha chiuso bene sui massimi vedete che di fatto il il prezzo il minimo il mercato dov'è che lo ha fatto lo ha fatto esattamente sui massimi della di due candele precedenti vedete quindi togliendo quella che ha una un asciato abbastanza pronunciata in alto allargo un po' che si vedete esatto questo esatto questo che cosa ci porta a pensare vediamo bene le candele perché non si esatto esatto allora vedete questo questo è il è il punto dove hanno oggettivamente funzionato in maniera palese breakout però vedete che quando il mercato in realtà inizia a salire ha fatto il minimo qua vedete che questo minimo qua è più assimilabile a questo livello qua infatti vedete che il mercato sta trovando supporto esattamente in questo livello qua quindi ripeto questo è un caso un po' particolare dove devi avere un po' di ehm di mistichezza con i grafici e devi esserti allenato come facciamo noi praticamente quasi tutti i giorni a trovare direttamente questi livelli però è così e e dal momento in cui ti sei allenato ad impararli e devi essere a a raggiungere con facilità eh al grafico automaticamente vedi che tutta quest'area intorno a 16 e 3 è l'area eh sulla quale ti devi cominciare ad allertare per andare a cercare in qualche modo dei setup per andare long in intraday come diciamo prima questa deve essere la chiave e l'altra cosa interessante che vi faccio notare che il mercato un analista classico avrebbe messo questo livello sul grafico perché perché quello massimo di swing quindi eh automaticamente quello sarebbe stato l'unico livello che un analista classico avrebbe messo sul grafico ma la domanda che vi faccio è ha funzionato? No! E questo questo è che mi fa pensare che io devo andare a mettere sul grafico livelli che ho molta probabilità da per la mia parte che funzioni è inutile che ci metto dei livelli che poi non mi servono mi sporcano il grafico e poi di fatto a livello operativo non ci faccio nulla e i livelli che invece il mercato eh supporta e in qualche modo rispetto alla grande sono appunto le ADD e cioè le aree da difendere che vi ho fatto appena vedere e questo ragazzi vale su qualsiasi mercato a patto che sia un minimo liquido altrimenti vuol dire che è manovrabile da da uno o più soggetti e soprattutto in qualsiasi epoca storica sono andato a a vederlo addirittura anche su grafici di decenni e decenni fa vi faccio un esempio relativamente recente se vuoi andare a vedere la notte in questa deletto Trump a novembre duemilasedici il mercato nei centocinquanta punti di discesa dell'SP 500 si è andato a prendere un'area da difendere degli dei long all'epoca non mi ricordo se l'avevo appena inventare le aree da difendere o le stavo per ideare cioè forse ce l'avevo dentro ma non le avevo ancora formalizzate e era un livello di cui io all'epoca non mi accorsi neanche sarà perché quella notte ero lì davanti e il mercato fece un capitombolo veramente grosso insomma guardare un SP 500 che perde centocinquanta punti non è una cosa che che succede tutti quanti giorni andò a fare al TIC la un'area da difendere andatelo a vedere per esercizio perché chi ha una piattaforma che arriva così indietro di cinque anni e si è andato a prendere esattamente un livello di un'area da difendere non solo centocinquanta punti di SP 500 oggi valgono qualcosa percentuale ma prima da un punto di vista percentuale valgono un po' di più domanda domanda aspetta Massimo domanda allora tra circa 9 minuti apre il mercato americano abbiamo un minimo della candela di oggi e abbiamo identificato un'area da difendere se il mercato in apertura va ad attaccare quel minimo si creano condizioni per un ingresso in break in long sì certo perché sappiamo che statisticamente fino alle 4 e mezzo le probabilità di breakout sono molto scarse quindi se il mercato mi va ad attaccare un'area di minimi e i breakout hanno scarsa incidenza da un punto di vista statistico allora quello è un ottimo punto per aprire posizioni long con stop infinitesimi quella è la bellezza del super trading è proprio quella il fatto di aprire posizioni tra virgolette robuste come diciamo capacità temporale per stare dentro però con stop rivedo assimilabili all'intraday due domande che mi sono arrivate sempre per Gianvito è tu hai parlato sempre per i mercati americani di 2 barra 3 aree da difendere quindi eventualmente chi non fosse che non avessero il coraggio di aprire oggi mi chiedono la secondaria da difendere e poi mi chiedono scusa anche questo invece un attacco del minimo di ieri lo vedresti bene come un ingresso sì sì allora il minimo di ieri è oggettivamente un punto di ingresso assolutamente anche perché come dicevamo è molto vicino all'area da difendere che era quella dei massimi devono funzionare i breakout l'unico problema che mi devo porre qui è in termini di sostenibilità dello stop cioè devo andare a vedere e cioè la differenza fra il minimo di ieri e il minimo di oggi mi dà in ottica di entry long uno stop accettabile oppure no quello è l'unico limite che ho ma se io per assurdo sono uno che normalmente lavora con due tre quattro mini nasdaq è chiaro che io potrei dire lo sai che ti dico lo faccio con un micro e comunque è sostenibile quello assolutamente si può fare quindi io non devo mai aumentare la mia leva ma posso andare in sottoesposizione nel caso in cui il mercato eh mi dia alcune volte un rischio che è oltre la norma a patto ovviamente che ci siano sempre tutte le condizioni non è che devo andare a prendere qualsiasi cosa anche assurda soltanto perché comunque diminuendo le quantità lo stop è accettabile ok e qui invece la secondaria sì naturalmente ricordiamo anche un'altra cosa che per quanto riguarda cambiare le size tutte le volte stiamo attenti che poi il trading aggiunge un elemento discrezionale quindi già vita vi sta ricordando casomai riducete o anche non mettete nella statistica una cosa fatta con un import infinitesimo rispetto al solito però non è che se vi imponete di fare un mini nasdaq alla volta eh il giorno in cui vi sentite meno confidenti ne fate di meno eccetera perché si sporca un po' la statistica bisogna cercare di essere abbastanza costanti ed eventualmente fare delle cose di cui non si è troppo convinti riducendo eh gli importi al minimo e mani a dare che la statistica non ne viene in cosa c'era se ti ricordi Massi c'era tanti anni fa c'era un tetra tedesco che veniva in Italia non mi ricordo invitato da chi se ti ricordi uno che ha i capelli lunghi the king of the ducks faceva 100 ducks alla volta ah bravo esattamente esatto e per esempio lui diceva lui direva costantemente di variare le quantità cosa su cui io avevo avuto un'esperienza diretta e me lo trovo malissimo perché tu fai una volta una volta con tre era birger ve lo ricordate quello ah sì 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 grazie Stefano e come vi dicevo è una cosa che se tu la provi a livello operativo ti trovi malissimo cioè al massimo lo potresti provare a far fare una macchina ma comunque come diceva Massimo vi sporca la statistica e quando io devo andare a mettere le mani per migliorare le performance o addirittura per cercare di capire cosa non va se sono andato in stop e quindi la performance negativa Non so dove metterle perché io potrei per assurdo dimostrarti che ci ho preso la maggior parte delle volte, magari ti dimostrano anche che se avessi fatto sempre con due DAX avrei guadagnato, ma avendo fatto una volta con due, una volta con tre, una volta con uno, una volta con quattro, alla fine ho perso. E quindi è chiaro che la probabilità statistica della singola tecnica non può essere, come posso dire, indebolita dal fatto che io ci inserisco un ulteriore parametro che è la quantità che io muovo, perché così sballa tutto. Anche perché purtroppo nella nostra esperienza sappiamo che la statistica è fatta da 1, 1, 1, 1, poi 10, 15, 20 nella giornata dove non c'è più disciplina. Quindi la secondaria da difendere per il Nasdaq, ci invito sempre su un grafico daily dove potremmo identificarla casomai. Allora, noi questa cosa ovviamente ragazzi dobbiamo farla sempre, non dico a mercati chiusi perché il Nasdaq sta quasi sempre aperto, però lo devo fare o di come siamo fatti noi, se siamo nottambuli o siamo mattinieri. Se siete nottambuli il mio consiglio è aspettare che il Nasdaq chiuda, quindi a 10, 11, mezzanotte in questo caso, che riapre, con notare che siamo sicuri che le candele sono chiuse e andiamoci a fare le nostre strategie e a mettere ovviamente le aree da difendere sul grafico, perché a quel punto le candele sono chiuse e sappiamo dove andare a mettere i livelli. Se siamo mattinieri facciamo la mattina presto, se voi siete già svegli alle 5, alle 6, alle 7 di mattina, vi mettete là con la mezz'oretta, un quarto d'ora, poi man mano che diventerò capace ci metterò pochi secondi, faccio le strategie e metto le aree da difendere e siamo pronti per operare e per capire esattamente quello che dobbiamo fare. E abbiamo già deciso prima ancora di iniziare a operare. Se lo faccio adesso col fatto che Dio sta entrando il segnale eccetera eccetera, magari faccio una cosa in maniera non lucida e poi me ne pento dopo, dopo che magari ho perso. Allora, andiamo alle aree da difendere. Allora, abbiamo detto, il livello del minimo di ieri è sicuramente, come vi dicevo, un ottimo livello a patto che ci sia sostenibilità dello stop. Quindi lo posso andare a mettere perché fa parte della parte bassa dell'area che sarebbe in qualche modo, come vi dicevo, assimilabile all'area da difendere del breakout dei massimi. Vi ricordate che c'è questo livello qua. Quindi tutta quest'area compresa fra questo minimo e questo massimo è in generale un'area da difendere. Ok? E la devo andare a considerare. Parliamo sempre, ripeto, io faccio finta che la candela di oggi non ci sia ancora perché magari sto facendo questo discorso a mezzanotte. Seconda area da difendere, la domanda che ci dobbiamo fare è dove hanno comprato massimi o minimi su livelli più bassi rispetto a questo? La risposta ce la siamo data prima perché un'area, ripeto, è tutta questa parte qui e l'altra area in questo caso è molto più precisa perché, vedete, è un'area che va da questo massimo a questo minimo, vedete? Quindi è molto più piccola, molto più circoscritta. Anche là noi normalmente che facciamo? Invece di metterci una linea ci mettiamo direttamente un rettangolo colorato. In questo modo lo estendo ovviamente fino alla candela di oggi, così so esattamente poi quando andrò all'intraday in che fascia di prezzo devo andarmi a cercare qualcosa per provare eventualmente andare long. Ok? Questa è la seconda area da difendere. Area da difendere più in basso, visto che sul Nasdaq, come su tutti gli indici americani, ne prendiamo più di una, anzi direi più di due in questo caso. Allora dobbiamo andare a vedere con lo stesso principio su livelli più bassi dove hanno funzionato o breakout dei massimi o break-in dei minimi. Come facciamo a capire questa cosa dove è accaduta? Vedete anche qua è abbastanza semplice perché se vado a vedere, vedete che su livelli più basso di questi, vedete qua ovviamente non hanno funzionato i breakout e non ci sono stati break-in, quindi questo livello qui non esiste e se vado su livelli più in basso vedete qua hanno funzionato i breakout dei massimi. Vedete? In qualche modo il mercato ha anche più o meno difeso perché vedete che su quel lasciato il mercato è andato più o meno in quell'intorno di prezzo. Quindi quella è l'altra area nel caso di discesa dei prezzi dove io andrei a cercarmi dei setup per andare long. Non ci sono altri livelli da mettere sul grafico ragazzi, né alti massimi, né altri minimi, né alti swing, non me ne frega nulla, né massimi storici. Se in quella fascia di prezzo ci dovessero essere dei livelli importanti passati dello strumento che voi state osservando, ve ne dovete interamente fregare. Ottimo, mercati che stanno aprendo. Ci sono altri strumenti che vogliamo vedere? Ci sono altri strumenti. Prima di passare ad altri strumenti, anzi nel frattempo tu cercami gentilmente l'oil, quindi il petrolio e poi ci chiedono anche il Dow Jones. Così lo vediamo. Massimo cerchiamo di rispondere ad una domanda su super trend. A volte super trend dà dei falsi segnali, siccome la domanda non è stata specificata esattamente con time frame eccetera eccetera, questi falsi segnali, quando cambia da verde a rosso, rosso-verde e poi ritorna, come vengono filtrati dal gruppo del tartarughe? Possiamo anche non filtrarli, nel senso che noi la prima cosa che dobbiamo fare quando c'è un fisiologico falso segnale, ricordiamo che se un sistema funziona il 100% delle volte ci dovremmo iniziare a preoccupare perché serve un sistema finto. Non esiste, quindi puoi avere sette casi successo, sette volte e mezzo. Andate a guardare una partita di calcio, quando vi dicono, noi abbiamo qua Alan, un bravo allenatore, in tutte le statistiche anche di Serie A, vi dicono la percentuale dei passaggi riusciti, 66, 70, 75, si viaggia sempre su tre quarti, quella è un'idea standard. Quindi un quarto delle volte almeno non funzionano. Quindi quando non funziona? La prima cosa che vediamo è se lo stop in reverse funziona. Funziona spesso, ma non funziona sempre. Possono anche capitare tre falsi segnali di fila. Dopo tre falsi segnali di fila non diteci tre parolacce di fila perché sono assolutamente fisiologiche. Andate a vedere 0,8 al cubo, anche se avete 80% di casi positivi, il fatto di fare 0,80 al cubo vi dice che solamente, che fate circa 0,51, anche se tu hai 80% di casi positivi, solamente metà delle volte riuscirai a fare tre operazioni consecutive inutili. Quindi ti dovrai sempre confrontare nella vita con una perdita, con un falso segnale. C'è rimasta memorabile un'intervista di Giambito a Investing Napoli. Utili sui mercati, siamo tutti capaci prima o poi a farli. Voglio vedere come ti comporti quando perdi, perché prima o poi perdi. Allora lì potrei fare vedere io velocemente quello che succede nel gruppo, nella realtà. Perché una cosa è la teoria, che è anche facile da proporre. Però guardate qua, questi quattro amici stanno facendo una gara. Il giallo stava andando benissimo, però ha una sovraesposizione. L'arancione un po' minore stava andando. Però alla fine adesso sta andando meglio il blu, che per diversi mesi non è andato da nessuna parte, però ha solo fatto una cosa. Ha controllato i drawdown, ha controllato le perdite. Alla fine, quando vi dicono che le statistiche del trading sono pessime, anche con Davide e Stefano, quando mi invitano a market breaking, lo diciamo, che ci sono il 70-80% di casistica negativa, è solo esclusivamente per il solito motivo, che non è possibile che i rovini in 4-5 operazioni sbagliate, in 6-7 mesi di guadagno. Quindi se il supertrend non va, perché due volte su 10 o 3-4 volte su 10 non va, non stiamo lì a cominciare a sperare che il mercato si prenda. C'è da chiudere e ci riproviamo un'altra volta. Scusate la banalità, ma è questo. No, ma quelle linee sai anche che vogliono dire? Quella gialla, se la rimetti un attimo, Quella gialla, io premetto che non conosco le persone e quindi non so neanche come operano, quindi ve lo dico per la mia esperienza. Vedete che la linea gialla è nella prima parte perfetta, perché vedete che le linee di drawdown praticamente non ci sono mai, tranne un punto assurdo, quasi inspiegabile, dove la persona sembra che non capisca più nulla, dice da oggi non c'è più feeling col mercato, non sono più capaci all'improvviso. Questo sapete che cosa mi porta a pensare? Che questa è una persona che ha mediato e quindi che cosa ha fatto? È andata sempre dal lato giusto perché comprava, 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 comprava e gli andava sempre un pochino in guadagno. Quindi la sua equity line aumentava sempre. C'è stata la volta in cui il mercato gli è andato contro, il fatto di mediare non gli bastava più e alla fine ha dovuto monetizzare una perdita enorme e vedete che è ritornato praticamente sotto il punto d'inizio. Mentre invece la linea blu, che oggettivamente non è eccezionale, perché vedete è una persona che una volta guadagna, una volta perde, poi una guadagna, poi riprende lo struppino, poi guadagna un po' di più. Però è una persona che probabilmente è più disciplinata perché entry, stop, target. Entry, stop, target. E comunque la linea, vedete, di fatto rispetto al punto di entrata sta più in alto. E quindi questo, ripeto, linea rossa, vedete, stessa cosa. È una linea praticamente perfetta in due tratti su di quattro, ma nei punti dove scende, scende a picco. Vedete? Perché? Perché arrivi a un certo punto che tu mediando, mediando, non sostieni più e alla fine schianti il conto. Non è sbagliato soltanto quando scende a picco, è sbagliato quando sale in quel modo lì. Cioè è proprio l'impostazione. Certo, perché è un guadagno drogato dal fatto che tu sei andato in guadagno a più mille, ma sei passato per meno ventimila. Ecco. Sì, assolutamente. Poi c'è anche un altro discorso che alla fine, perché lo conosco, sono operazioni d'orgoglio. Nel senso sono short contro trend perché in Germania stavano aumentando i casi, in cui si inseriscono delle variabili che poco hanno a che fare con l'oggettività dei grafici. Allora è il mercato che sta sbagliando perché non può che scendere. Il problema del nostro amico, diciamo, lo chiamiamo giallo, è che ha avuto ragione. Il mercato è sceso dai massimi del DAX, ma è sceso troppo tardi. Nel senso che quando lui aveva già, come dicevamo prima, finito la leva finanziaria sul conto. E quindi a un certo punto il margine cominciava a diventare elevato e non ha potuto più sostenere l'operazione. Ed è bruttissimo mentalmente avere ragione dal mercato quando poi tu non ci sei più. Quella è la cosa che dobbiamo aiutare. Com'è che ci salviamo? Con Alan, che da un paio di mesi ormai ci propone anche il micro DAX. Allora, siccome in questo mercato qualcuno dice che possa eventualmente arrivare alla successiva area da difendere a 15.700 del DAX, va bene, provate con un micro DAX, voglio dire, sono più o meno 300 euro, non cambiano la vita nessuno, almeno spero. Se dovete fare trading, spero che 300 euro non cambino il vostro tenore di vita. Ma se dobbiamo avere dei movimenti più ampi, sicuramente lo stop deve essere sostenibile. Gianvito, scusa, torniamo allora agli strumenti finanziari che vogliamo osservare. L'oil chiedevano, no? Sì, l'oil, esatto, chiedevano l'oil. Sì, assolutamente. Vedete, qui abbiamo un trend long palese, vedete. Io mi limito ad osservare, ragazzi, quello che vedo. In realtà, ricordatevi che se noi avessimo ore e ore di tempo e dovessimo fare un'analisi per entrare realmente al mercato, dobbiamo sempre partire da un frame più alti. Quindi dobbiamo fare monthly, weekly, daily. Noi per semplicità facciamo direttamente sul time frame, ma poi voi quando farete da soli fate esattamente, non bypassate i passaggi fondamentali. Vedete che qui ho una difficoltà inizialmente. Perché? Perché vedete, io ho un trend che vedo ovviamente long, però poi vedo una sorta di ritracciamento che a occhio mi sembra molto ampio rispetto alla parte di prezzo che vedo. Vedete? Perché? Perché vedete che il mercato scende, sale, scende, sale e scende ancora. Quindi sembra quasi che adesso sia short impulsivo. Quando vedo una cosa del genere, vuol dire che cosa? Vuol dire che ho bypassato dei passaggi importanti, che erano quelli di andare a analizzare da un frame più alti. Per esempio sarebbe il caso, in questo caso per forza, di vedere il weekly, perché se io non vedo il weekly, non riesco a spiegarmi perché questo ritracciamento short sia così ampio rispetto al trend long che vedo. Ti faccio i complimenti perché è arrivato un... Ricordo quello che ha detto Alan prima, andate a vedere il webinar passato, andate a vedere se Gianvito non aveva già individuato prima l'area di difesa settimanale che puntualmente il crude oil ha tenuto. Però anche qui un'altra volta torniamo a fare un discorso... Vediamola, vediamola un attimo velocemente Massimo. Sì, per chiudere i daily Gianvito vi farebbe notare che il mercato, anche se fa minimi più bassi, non ha mai venduto minimi. Dico bene Gianvito, adesso passiamo al settimanale. Passiamo al settimanale. Insomma, promosso come allievo, mi accetti nel gruppo. Allora, allora, vedete, anche qua applichiamo lo schema di prima, vedete, è molto semplice, Massimo ve lo sta indicando. E' un'altra linea, dai che così mi promuove Gianvito. Dai, dai, eccola. Esattamente, è il punto, vedete, dove hanno funzionato i breakout dei massimi. Stesso schema di prima, ragazzi. Non inventiamoci niente di strano. Vedete qui il mercato quanto addirittura era minaccioso in questa candela di espansione rossa. Vedete, oltretutto, vedete, non aveva neanche creato così tanto asciato. Quindi, se io avessi diciamo analizzato la cosa in maniera classica, avrei potuto dire oh, quegli short ci sono e neanche sono usciti perché mi sembra che non ci sono stati neanche mesi di profitto. Guardate che cosa ha fatto sta facendo più che altro questa settimana visto che è appena iniziata. Il mercato, vedete, su questa candela verde informazione ha aperto, è andato sotto l'area da difendere e sotto il minimo della settimana scorsa e poi, vedete, ha creato shadow prima e poi ha fatto cambiare colore al body e adesso sta viaggiando sui massimi. E questo vi fa capire quanto sono importanti questi livelli che, ripeto, nessuno finora ha mai visto. Eppure, come vedete, sono livelli che funzionano alla grande. C'è un, scusami Massimo, c'è un livello caratterizzato da quella candela rossa di espansione, no? Che potrebbe essere il livello dei target di chi è andato long oggi. Allora, i minimi della candela rossa sono i punti dove, ovviamente, l'area di difendere dove sono andati a target gli short e dove i long hanno aperto solo questa settimana posizioni perché, oggettivamente, aprire la scorsa settimana posizioni long sul petrolio con una candela di espansione rossa vuol dire proprio comprare, non lo so, andare sotto quando grandi a prendere i cubetti di ghiaccio pesanti un chilo e prendere un coltello mentre cade, insomma, è già meno pedicoloso perché se le grandi, se i pezzi di ghiaccio pesano un chilo ti fanno ancora più male del coltello. No, quello che volevo chiederti è, i ribassisti, no? Avranno un'area da difendere che potrebbe essere il target Ah, scusami, ho capito male io, assolutamente, sì, certo, se ce la vuoi dire, se c'è. Assolutamente, sì, sì, assolutamente, anche Alan ormai si è smaliziato, vedete che è esattamente questo livello qua, vedete, quello è il livello dove i breakout dei minimi hanno funzionato, quindi è chiaro che è il primo livello dove è probabile che i long vadano almeno inizialmente a profitto, il che non vuol dire, ragazzi, lì aprire posizioni short al momento, così come la scorsa settimana era sbagliato aprire posizioni long, è allo stesso modo sbagliato in questo fase della settimana, visto che siamo ancora all'inizio, aprire posizioni short su quel livello là, benché quella sia un'area da difendere, cosa differente se invece analizziamo l'area da difendere da cui è originato tutta la discesa, perché? Perché vedete che tutta la discesa, noi, ormai la discesa è stata fatta, possiamo dirlo con certezza, dov'è che gli short sono entrati sui massimi, è molto facile, vedete che in prima istanza potrebbero essere entrati qua, vedete? Lo dico ovviamente se non avessi visto le candele dopo, perché magari ho fatto questa analisi quando il prezzo stava su questa candela qui, poi vedete che il mercato che cosa ha fatto con quest'altra candela? Ha aperto, è salito e poi è sceso per poi soltanto detracciare alla fine, quindi comunque in qualche modo ha confermato quest'area e allo stesso modo vedete che poi il break-in di questo livello ha portato poi i prezzi direttamente sui minimi della scorsa settimana e quindi possiamo dire certamente che questa è un'ottima e bellissima area da difendere dove potrebbero esserci molte prese di profitto dei long, quindi è chiaro che chi ha, visto che questo è un grafico weekly, orizzonti temporali anche leggermente più piccoli, anche non necessariamente in trade, magari anche daily, lì il prezzo potrebbe scendere anche per un giorno o due almeno e quindi è chiaro che quella sarebbe un'ottima area non solo per andare a target dei long ma anche per aprire momentaneamente posizioni short. Vi volevo per vedere il tempo reale sia il Dax che il Nasdaq che stanno facendo curiosamente un pattern proposto da Gianvito, andate a guardare un po' il Nasdaq in apertura, eccolo là, facciamo la finta, andiamo ad attaccare e ripartiamo a rialzo. Attaccati i minimi, esatto, non è andato a oltrepassare il livello del minimo di oggi ma ha reagito subito. Sì, ha reagito sull'area da difendere che avevamo identificato e anche il Dax, andiamo a guardare la stessa roba, possiamo vedere anche di vero periodo, proprio finta partenza immediata, sempre dal punto di vista long, quindi la view di fondo di Gianvito che si mantiene nonostante la volatilità in aumento. Gianvito qualcuno mi aveva fatto dei complimenti per te perché tu nella volta scorsa da un punto di vista grafico oggi ci sono anche delle notizie importanti sul titolo di Swap IPO di parti di società eccetera quindi non stiamo qui a commentare ma da un punto di vista grafico parlando del crude oil non potevamo che parlare anche della regina degli scambi ultimamente tranne le telecom di questi giorni avevamo insieme con te identificato un'area di target anche settimanale che puntualmente si era verificata ma anche un'area di supporto in area 12 e 20 da tenere settimanalmente sì assolutamente avevo il grafico preimpostato quindi l'area di 12 e 20 confermiamo adesso che da pubblico proprio oggettivo noi non facciamo mai raccomandazioni di investimento o disinvestimento sul singolo titolo ma considerate questo grafico come se fosse un grafico di qualsiasi titolo di qualsiasi asset da un punto di vista settimanale l'area 12 e 20 la vuoi commentare? sì qui in realtà facciamo lo stesso tipo di aggiustamento che abbiamo visto prima sul Nasdaq mi sembra cioè vedete noi prendiamo da un lato il punto dove hanno funzionato i breakout al netto di questa candela rossa che sta in mezzo quindi aspetta che si è detto ok vedete questa quest'area qui era l'area dove in qualche modo i breakout hanno funzionato vedete che andava poi aggiustato con i minimi della candela rossa perché è chiaro che se il prezzo mi va qua sotto e risale se il prezzo non mi va sotto i minimi della candela rossa chiaramente io questo minimo non lo posso prendere per entrare lunghe ma nel caso in cui ci vada ovviamente questa cosa la faremo quindi anche qui l'area va dal massimo della candela verde cioè questo al minimo della candela rossa che è questo qui e quella ripeto il mio consiglio è sempre quello di metterci un rettangolo noi spesso lo mettiamo colorato apposta e va esattamente dal massimo della candela verde al minimo della candela rossa esteso ovviamente fino a oggi altrimenti poi io a livello operativo non so dove andare a cercare e questo è esattamente quello che devo andare a fare per quanto riguarda appunto le aree da difendere e quella era un'area che appunto potremmo sfruttare in ottica di break-in dei minimi della candela precedente per andare long e volevo fare sottolineare che questo non è che è un grafico noioso settimanale perché il 12 e 15 di minimo l'ha fatto oggi 12 e 44 oggi quindi è tutto un movimento generato alla fine oggi in tempi brevi esatto malgrado sia un'operazione tra virgolette di lungo certo adesso stringendo un attimo nel time frame c'è il solito discorso dell'amico che oggi non ha visto che sono uscite notizie particolari sul titolo eccetera e ha il cosiddetto losing out fear paura di rimanere fuori dalla festa aiuto stanno guadagnando tutti gli allievi di Gianvito sono io l'unico che non sto guadagnando stiamo parlando sempre di grafico oggettivo lasciate perdere che lì ci si è scritto Enel STM o quant'altro e che cosa fa chi è rimasto fuori dalla festa che cosa fa quello che possiamo dire è quello vedete che nella candela di oggi per esempio ovviamente l'ultima a destra vedete che il mercato fa a volte qualcosa che alcuni potrebbero infastire se entriamo nell'ottica di questo schema che vi ho detto e c'è quello di andare a trattare i break in perché la cosa che ti potrebbe infastire vedete che il mercato ha fatto un minimo che è solo di poco più alto rispetto al minimo della candela russa vedete perché in questa giornata qui il mercato ti va a fare un break in da manuale ma questo giorno qui non ti dà la possibilità né di entrare sopra il minimo della candela di ieri e neanche sopra il minimo della candela russa perché non va a prendersi né l'uno né l'altro allora in questo caso perché un trader deve avere una strategia e deve fare questo lavoro a monte prima che il mercato apra o comunque prima di iniziare ad operare perché se non lo fa prima alla fine si va a prendere dalla a Roma si dice dalla prescia cioè dalla voglia di fare le cose in fretta e spesso vengono male qual era un livello che si poteva andare a trattare se io ho fatto un'analisi del grafico fatta con tranquillità vedete che è il minimo di questa candela qua vedete che questo minimo di questa candela qui che poi oltretutto vedete ha originato anche il breakout di questi massimi quindi certamente un giorno una candela importante su questo grafico perché poi ha originato ripeto il rialzo che ha generato questi massimi qua è chiaro che quello era un livello che si poteva tranquillamente andare a prendere avrei anche io preferito che il mercato andasse ancora più giù per andarmi a trattare il break in ad un livello temporalmente più vicino ma quando questo non accade devo essere pronto a prendere dei livelli che non sono temporalmente vicini ma non per questo ad esempio una cosa che molti pensano è un'altra cosa da un altro mito da sfatare un falso mito è il fatto di pensare che se un livello è molto indietro nel tempo sia meno importante di un livello che è più ravvicinato nel tempo non è vero vi faccio un esempio stupido ogni giorno nella vita è importante ma voi vi ricordate cosa avete fatto il 14 novembre di tre anni fa o vi ricordate il giorno del vostro compleanno perché vi ricordate proprio quel giorno perché non succede spesso ogni giorno in sé è unico però io mi ricordo di giorni particolari mi ricordo del giorno che l'Italia ha vinto col Brasile nell'82 è normale no però siccome lo leggo a un evento speciale io quel giorno me lo ricordo ecco dovete pensare che il mercato funziona esattamente nello stesso modo se quel giorno è successo una cosa speciale è molto probabile che il mercato se la ricordi anche se è avvenuto tanto tempo fa bene allora a proposito di ricordarci ricordiamoci anche delle cose più recenti della vettore sul Belgio sulla Spagna sugli ultimi risultati così prendiamo un po' di morale e anche c'è un video dei Jackal che consiglio di vedere su tutto quello che abbiamo vinto quest'anno quindi andate sulla ma ricordiamoci anche dell'europeo di pallavolo femminile il maschile il maschile il campionato l'italiano di pasticceria ragazzi io ho organizzato ho organizzato cose qua a Madhut su un mega screen per la partita di pallavolo anche quest'anno tutte pazzie visto che ci avviciniamo al 25 soprattutto quando c'è il pallavolo femminile non se lo fa mancare rimaniamo in te visto che ci avviciniamo al 25 che è la giornata contro la violenza delle donne ci tengo a riportarvi su questa attenzione perché ultimamente mi è capitato di andare a vedere la pallavolo femminile dal vivo e vi devo dire ho visto sia la pallavolo femminile e sia il calcio femminile Roma Sassuolo dal vivo e vi devo dire che la mia concezione dello sport femminile è notevolmente cambiata perché un conto è vedere le cose in televisione un conto è vederle dal vivo e dobbiamo fare i complimenti perché le ragazze sportive italiane sono verso l'eccellenza veramente ma normalmente anche nel nostro gruppo al quale naturalmente siete tutti invitati scrivendo una mail noi abbiamo delle trader donne sono più profittevoli normalmente naturalmente rinnovo l'invito sono poche sono solo il 6% del gruppo però non mettono troppe variabili dentro non mettono la pancia non mettono il fatto che questa settimana siccome è la settimana di Thanksgiving deve salire tutto per forza magari il grafico dà negativo e allora cercano di essere più oggettive su questo ci battono anche sul tre bene bene poi io penso che è una percentuale incredibilmente identica anch'io il 94% di uomini quindi è incredibile senti Gianvito Massimo se possiamo ritornare un attimo sul Nasdaq perché abbiamo il Nasdaq che andava a minacciare i massimi di oggi ecco forse mettiamo mezz'ora come lo mettiamo Gianvito sì sì certo possiamo perdere queste robe qua sì ok perfetto allora è andato ad attaccare i minimi in apertura e adesso sta andando ad attaccare i massimi come ci si deve comportare in questo momento qual è quello che tu allora quello è è certamente un target anche perché se tu lo vai a comparare al rischio che avresti corso ovviamente qualsiasi punto di entry long fai conto sullo asciato di questa candela avrebbe avuto stop sotto i minimi di giornata quindi certamente molto vicini è chiaro che nel momento stesso in cui il mercato va sui massimi di giornata come appena fatto è chiaro che tu stai remunerando il rischio sicuramente già tantissime volte quindi non sarà un guadagno eccezionale malgrado ci possa sembrare poco io vi ricordo sempre che mettiamo conto con un micro ragazzi non 10 mini dax un micro che è la quantità più infinitesima che possiamo con cui possiamo lavorare sul mercato regolamentato con il nasdaq voi immaginate un'operazione aperta intorno ai 16 e 3 che sta quotando adesso 408 sta guadagnando arrotondiamo 100 punti 100 punti moltiplicato per 2 dollari sono 200 dollari fatto in quanto tempo parliamo di minuti cioè questo per farvi capire che se facciamo le cose giuste non c'è bisogno né di operare con capitali smisurati e neanche di usare leva smisurata perché la cosa importante è l'ampiezza dello stop e le probabilità che se mi va a favore quante volte io posso andare a remunerare il rischio queste sono le cose su cui devo andare a basarmi tant'è che una cosa che poi affronteremo con Alan e l'abbiamo in parte anche già affrontata in passato è quella di andare a capire concretamente con che capitale lavorare e soprattutto quale tipo di guadagno andarci ad aspettare da un punto di vista io oserei dire proprio scientifico questo noi dobbiamo riuscire a capire altrimenti abbiamo questo falso mito o che se non abbiamo un milione di euro non si può fare trading oppure che per guadagnare una cifra accettabile siccome siamo abituati che un rendimento di uno strumento X è l'1-2% l'anno io per guadagnare uno stipendio devo comunque investire cifre pazzesche non è così a patto che impariamo a farlo bene e a patto che lavoriamo con un profilo di rischio molto molto basso e questo lo potete vedere il 14 dicembre io ti seguo Gianvito alle 3 del pomeriggio dopo magari essere stati anche insieme con noi per tutta la mattinata di trading insieme e poi ci sarà anche il 17 dicembre un altro interessante webinar di un ora e naturalmente se andate nella sezione WeBank sezione eventi e corsi potete andare a ripassare anche vedere su YouTube sulla pagina YouTube di WeBank anche gli eventi passati ad esempio ieri c'è stato anche un altro evento con Pietro con l'amico Gaetano Evangelista e secondo me una cosa interessante in cultura generale andrebbero rivisti un po' tutti questi quando potete naturalmente diciamo se avete poco tempo prima i nostri e poi quelli degli amici e con lei va bene tutto però insomma ok Massimo facciamo una panoramica anche sugli altri indici americani l'SP500 e il DAO perché ce l'avevano chiesto tanto fatemi fare un saluto un complimento a Fabio Caudioso che ieri ha beccato proprio al TIC il massimo sull'SP500 quindi bravo Fabio speriamo di vederlo presto insieme al prossimo evento anche lui un grande esperto di opzioni come Alan allora qui abbiamo un grafico quattro ore anche qua questi mercati che fanno finta ma di scendere per adesso non ne vogliono sapere Giambi che diciamo sull'SP500 che diciamo gli possiamo fare l'applauso all'SP500 guardate che guardate che candela guardate che break in ma vedete che qua quello che dobbiamo andare a fare è andare a tracciare come al solito sempre la rida difendere e andare a vedere in questo caso quale minimo conveniva tracciare ecco perché io dico la strategia va fatta prima perché se io poi col prezzo che si muove devo scegliermi al volo un punto d'entrata è chiaro che verrà fatto male o comunque in maniera non ottimale allora l'area difendere è sempre la stessa ragazzi guardate come applichiamo un solo concetto ripetuto costantemente nel tempo che funziona sempre guardate qua allora se io qua era un po' meglio prima metti un po' candete un po' più via ecco così va bene già va meglio ok perfetto vedete se io qua vado a vedere dove hanno funzionato i breakout a grandi linee vedete che è esattamente questo livello qua allora se il prezzo viene giù io devo andarmi a prendere il livello più conveniente possibile in ottica long e qual è secondo voi il livello più conveniente in ottica long questa area le aree da difendere abbiamo detto questo è il punto diciamo però siccome il mercato non è che la rispetti al TIC è un'area appunto altrimenti l'avrei chiamato livello a difendere invece l'ho chiamata aree da difendere poi devo andarmi a cercare un livello invece puntuale perché perché l'ordine lo devo andare a mettere a un livello di prezzo preciso non è che gli devo dire più o meno vai long l'anno io lo posso dire alla macchina allora devo andarmi a prendere un livello che sia ovviamente il più conveniente possibile quindi quello che sia il più vicino possibile a quest'area allora qual è il minimo più basso fra tutti quelli che il prezzo ha toccato nella discesa ovviamente questo no perché è il più lontano o meglio anche questo si poteva prendere però in termini di convenienza dello stop non sarebbe stato eccezionale perché è molto più in alto rispetto ad altri che ci sono invece più in basso il più in basso se la vista non mi inganna dovrebbe essere questo qua vedete questo è il livello quindi se tu tracci una linea lì sappiamo esattamente quant'è il nostro livello di rischio perché sarà la differenza fra quel minimo lì e il minimo che il mercato ha fatto oggi e che ha già ampiamente pagato esattamente perché vedete se prendo questa differenza se vuoi puoi mettere anche una linea sul minimo di oggi così ci rendiamo conto sia graficamente sia economicamente di quant'è questa differenza quindi stiamo trattando stiamo trattando ragazzi un segnale robusto ma lo stiamo trattando con uno stop che rispetto a quello che siamo abituati col daily è poca roba vedete quanto è questo in termini economici più o meno da non so 67 è un 0,27% che se noi lo duplichiamo l'ha già rifatto a rialzo esattamente vedete lo duplichiamo l'ha già fatto a rialzo e probabilmente riuscirà anche a rifarlo ecco è già pagato due volte il rischio sì esattamente quindi vedete che questa è un'operazione che non possiamo certamente più chiudere in perdita e anche qua facciamo sempre il studio raggiamento cioè dov'è che eventuali short sono entrati in appunto a ribasso in questo caso dobbiamo andare a vedere massimi perché se sono entrati sono entrati in break in dei massimi vedete che sono entrati sul livello più alto certamente qui vedete questo è sicuramente un livello ottimo però vedete che siccome qua abbiamo anche dei massimi di swing precedenti è molto probabile vedete che se io traccio una linea da questo massimo qui Massi aiutami altrimenti non riusciamo con la mano libera eccolo qua vedete che quello è il livello dove è molto probabile che sulla penultima sulla prima delle due candele rosse cioè questa qualcuno sia probabilmente abbia provato ad andare short anche se vedete che poi il mercato ha creato un po' risciato quindi è molto probabile che gli short che hanno shortato qui non abbiano avuto un orizzonte temporale molto ampio cosa che invece è accaduto ovviamente sulla candela seguente però comunque lì sono entrati quindi se io ho un ampio respiro posso sicuramente fra le due aree a scopo precauzionale andare a mettere il target qua ok mi hai fatto una lampadina quando hai detto questa roba qua è un'operazione che non puoi più perdere purtroppo noi ricordiamo sempre che un grande guadagno parte da un piccolo guadagno e dopo dobbiamo non solo andare a difendere le aree ma dobbiamo anche andare a difendere numericamente quello che stiamo appunto portando a casa invece al contrario naturalmente sappiamo che una grande perdita parte da una piccola perdita quindi non dobbiamo consentire che ci vadano e allora Gianvito io ti volevo chiedere non solo dal punto di vista grafico ma proprio dal punto di vista mentale ti trovi un allievo che diciamo condivide i tuoi mesi metodi ed è in vantaggio di 40 punti su S&P 500 sto dicendo una cifra vogliamo continuare ad andare avanti come come facciamo allora intanto quello che bisogna fare è operare sempre con piccole quantità ma sempre in ottica multicontratto perché perché se noi entriamo con un micro un mini o quello che volete voi ma comunque sia con un blocco unico anche se io entro con 100.000 azioni ma ho un blocco unico cioè non le vado a scendere su più target alla fine ho comunque una gestione che non è ottimale quindi quello che devo sempre fare è lavorare in ottica sicuramente multi frame perché non posso analizzare un solo time frame per fare trading poi devo analizzare devo fare trading in ottica multi markets devo necessariamente osservare più di uno strumento e nel momento stesso in cui lavoro su più di uno strumento devo ragionare anche in ottica multi contratto ragazzi non si può prescindere da questo quindi qualche migliaio di euro sul conto bisogna averlo ok se c'è stata una persona che mi ha chiamato mi sembra un po' di di tempo fa che mi diceva eh io potrei mettere 200 potrei mettere 500 con 200 500 euro ragazzi non è non è perché uno vuole struncare un sogno ma non si può fare trading ma non è che allora si potrebbe anche in teoria fare soltanto che il guadagno che tu avrai non è apprezzabile in valore assoluto perché se tu oggi chiudi con 10 dollari di guadagno la mia domanda è ma che ci fai? cioè hai guadagnato in percentuale bene anche perché 10 dollari su base 200 è un buon guadagno però in valore assoluto è quasi zero voglio sperare che se tutti avvicini al trading e lavori per qualche ora ti pagano più di 10 euro voglio sperare quindi è chiaro che bisogna farlo non tanto per le variazioni percentuali quanto per il valore assoluto perché io devo avere un guadagno che sia apprezzabile quindi se io ragiono in questo modo qualche miliardario sul conto con qualche miliardario già si riescono a fare delle cose ottime ragazzi che magari con lavori normali neanche riesci a fare? intanto volevo fare i complimenti Alan che ha sottolineato in tempo reale il break-in dei massimi intraday guardate quante volte ha rimunenato il rischio quindi il mercato che come diceva Gianvito dalle tre e mezza alle quattro e mezza ha poche possibilità di fare breakout ha fatto finta di attaccare i massimi della notte e poi è venuto giù quindi bravo Alan voglio dire ormai la tecnica Gianvito ma sapete quanta gente è andata shot sotto i minimi ed è andata long anche sopra i massimi attirano i minimi e via sì 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 vediamo anche il Davo Jones che se no si offende si arrabbia no? si offende sicuramente visto che è stato uno dei primi una cosa che io volevo e poi Gianvito c'ho anche un titolo con addirittura un ingresso long da commentare quindi per quanto riguarda noi naturalmente diamo delle cose per scontate ne abbiamo fatto vedere il Nasdaq il Dax finora naturalmente quest'anno è stato l'anno dello stock picking la Tesla che si era doppiata da Ferragosto adesso piuttosto che e quindi qualche ragazzo noi ormai abbiamo qualche annetto sulle spalle scegliendo il titolo ideale ha fatto magari anche più e meglio del Nasdaq perché noi puntiamo sempre a far vedere il Nasdaq come indice più importante degli Stati Uniti e poi il Dax come indice più importante d'Europa perché ormai dopo tanti anni sappiamo che fare meglio del benchmark meglio del mercato meglio dei dei gestori è difficile quindi tanto vale che ci concentriamo su una un indice importante molto liquido e piantiamo la l'illusione del controllo di avere perché poi ci sono amici anche come Stefano che fanno delle analisi bellissime sui singoli titoli degli Stati Uniti e vanno seguite anzi c'è il canale Propste insieme con quello di Davide Piocchi che vanno seguite anche lì però in generale non si può prescindere dall'avere la big picture cioè l'idea di fondo di come stanno andando gli indici di riferimento Dow Jones giornaliero aggiungo soltanto una cosa Massimo che gli indici permettono di eliminare il rischio specifico pensiamo un po' a un titolo come Moderna che chi ha comprato Moderna magari ha fatto tanti soldi ma chi invece l'ha comprato a 400 dollari insomma quello che è si è trovato poi in difficoltà nel momento in cui esce fuori una notizia che per esempio alcuni che facevano parte diciamo dell'agenzia americana avevano partecipato al brevetto di Moderna adesso la dico in termini di modi ecco chi ha comprato a 450 dollari si è visto poi con una notizia diciamo che impatta quindi sul rischio specifico del singolo titolo sarei vista a 200 quasi e chiaramente bisogna sempre vedere tutti e due i lati delle medaglie quindi evitare diciamo i singoli titoli permette di evitare il rischio specifico a prescindere dal fatto che noi li invidiamo sempre comunque comunque io Domenico ho fatto Moderna quindi non può che risalire ragazzi magari facciamole super trend giornaliero no ma io mettendo un banalismo super trend daily identifica un trend importante delle resistenze importanti qui vedete delle resistenze e qui c'è un'altra resistenza purtroppo lasciando perdere appunto che qui ci sia scritto Moderna anche mia moglie ha fatto Moderna insomma siamo stati tutti bene in famiglia quindi tutto ok è un grafico come un altro ci potrebbe essere scritto qualsiasi altra cosa qui quindi non guardiamo in alto a sinistra però purtroppo in qualsiasi grafico del genere troverai dei trader che hanno fatto da 250 a 270 e hanno preso il profitto e si sono persi tutto il salitone quelli che come dice Anna hanno comprato a 400 magari qua cominciano a sperare quindi non c'è tecnica non c'è santo purtroppo se noi non cambiamo questa attitudine malvagia è freddy che quando guadagniamo prendiamo i pezzettini quando perdiamo eh vabbè ma no Moderna adesso ci sarà la diciottesima ondata per cui dovranno ricominciare a comprare vaccini in Italia sapete che sono arrivate le nuovissime forniture per noi vecchietti che stiamo andando a fare la terza dose guarda anche guarda anche il super trend come coincidono dicono vedi qua su questi massimi qua è incredibile pure questa cosa qua funzionano i break out i break key i break out dei minimi e il super trend praticamente ci dà esattamente lo stesso livello no ma è quello che ha inventato la formula del super trend che in effetti è un allievo di Giambito per cui ha messo dentro questi questi parametri allora torniamo al Dow Jones con tutto il rispetto per tutte le aziende e tutti gli amici che che inventano il software allora qui abbiamo un grafico giornaliero quindi vedremo noi in teoria queste candele rosse continui e anche oggi dovresti chiedere così è una candela rossa allora vi do questa sorta di diciamo di piccola chicca a livello operativo allora quando io vedo un mercato che vedete che il mercato qui ultimamente sta salendo però fateci caso qui domanda hanno funzionato i breakout dei massimi pur avendo fatto nuovi massimi non lo so qui il mercato chiude proprio a ridosso qui il mercato chiude proprio a ridosso poi fa una candela rossa vedete che l'unica area che io metterei con tra virgolette che poi ha funzionato perché vedete qui il mercato inizialmente come ha difeso ed è andato a questo massimo prima di scendere quindi anche là quell'area da difendere ha funzionato però vedete su quella salita il mercato così come quando di traccia non vende minimi un mercato che sale e non compra massimi in maniera palese non mi piace tantissimo però questo è ancora poco perché fa parte della diciamo del del sapere osservare i grafici per tanto tempo però il problema qual è che quando scende invece guardate invece con che facilità i minimi li vende vedete alla fine vedete che ha venduto anche questo alla luce del fatto che ha fatto questa candela qua quindi questo che cosa mi fa pensare che quello che devo fare in questa fase è non analizzare questo time frame perché questo time frame visto che io sto notando che sale senza comprare massimi e scende vendendo minimi mi va contro l'idea di fondo che è oggettiva che il mercato comunque sia tremendamente long quindi questo mi dà lo sprone se mai l'avessi bypassata come fase di andare a analizzare il weekly proviamo a farlo ecco allora vedete qui come si semplifica tutto quanto vedete come si semplifica perché perché ho molti meno livelli perché ovviamente ho molte meno candele a parità di orizzonte temporale e quindi posso fare una sorta di analisi molto molto più vedete che quest'area da difendere qui adesso è diventata un rettangolino perché vedete la differenza fra questi due livelli e il mercato in qualche modo qui la sconfitta e qui in qualche modo vedete è stata usata è stata usata come target su questa su questa candela ultima che ovviamente è in formazione quindi non posso ancora saperlo con precisione quindi è soltanto al momento un'ipotesi e poi aspetta che cancello ok e poi vedete più in basso dov'è che io ho con certezza un'area di freno vedete che da un lato io ho questo livello qua dove certamente hanno funzionato i breakout vedete questo livello qua però vedete che il mercato con questa ultima candela per lo meno per il momento è andato soltanto al di sotto di questo livello qua vedete pam quindi l'unica possibilità che io avevo al momento di trattare long era in break in di quel livello là ovviamente non mi conveniva farlo su questo perché sarebbe stato ugualmente giusto ma avrebbe avuto un profilo di rischio più alto perché vedete lo stop è più ampio quindi però non è un livello come posso dire eccezionale potrebbe esserlo soltanto nel momento in cui io mi rendo conto ecco perché è importante fare un'analisi che quelli sono stati dei precedenti massimi importanti che hanno originato poi questa discesa e c'è questo minimo di swing che ha dato luogo a quest'altro impulso però come vi dicevo se il mercato come regola ha già quotato in maniera ravvicinata nel tempo su questo intervallo di prezzi e cioè questo qui non ha senso andare a vedere un periodo precedente come si è comportato perché perché nel momento in cui il mercato mi ha fatto capire che questo qui non era più una resistenza sulla salita io perché mi devo aspettare che questo sia un supporto sulla discesa avrebbe un senso se io non avessi questa parte del grafico e stessi qua ma se io ho questa parte di grafico già formata non ha senso nella discesa andare a vedere qui piuttosto che qui allora in questo senso invece acquisisce valore il fatto che quella base dati sia più ravvicinata nel tempo quindi ha più senso dire ha più valore un prezzo preso il 29 piuttosto che un prezzo preso tre mesi fa sei mesi fa a agosto ok quindi in questo caso devo ragionare sul criterio temporale Massimo se tu mi metti il grafico di BS quindi andiamo su Nazione italiana BS perché quando mi scrivete direttamente su Whatsapp cerchiamo poi di accontentarvi e in questo caso abbiamo un ascoltatore che ci dice di essere entrato Long a 24 e 18 ma non lo vedo tanto convinto nel messaggio e vedendo un po' il grafico probabilmente non capisco perché non è tanto convinto quindi Gianvi se tu puoi spiegarci innanzitutto come mai secondo te il nostro ascoltatore è entrato Long a 24 e 18 e quali sono diciamo le tue impressioni sì allora mettiamolo proprio come livello grafico così capiamo in effetti magari vediamo anche un pochino più candele vediamo ora io la prima cosa che mi viene in mente quando un amico mi chiede un singolo titolo noi naturalmente non facciamo mai consulenza di nessun tipo mi raccomando la consul richiede di analizzare solo le cose da un punto di vista proprio oggettivo la prima cosa che mi viene in mente è detto 100 il tuo portafoglio quanto hai sul singolo titolo sei diversificato hai almeno 20 titoli o hai messo tutte le uova nello stesso paniere numero uno numero due in generale a me non interessa tanto il prezzo di carico nel senso che il grafico deve essere oggettivo sia se uno ha comprato a 8 nel 2020 o che abbia comprato sui massimi per me se è un grafico da vendere si vende se è un grafico da comprare si compra c'è sempre Gianvito ci dice sempre che l'analisi è con un risultato short o long Gianvito a te la parola sì allora è chiaro che visto così non è bello è un titolo oggettivamente che io non trato non conosco ma farci un'idea è molto semplice allora guardate quanto sono brutte le candele rosse sono proprio brutte cioè questo che mi fa pensare mi fa pensare che se io prendo il prezzo contro mi fa veramente soffrire e non vale soltanto per tutta quest'area di massimi ragazzi vale anche qui guardate qua se io avessi longato quest'area di supporto qui questa o questa guardate il mercato in poche sedute che cosa mi fa è veramente veramente dura quindi come posso dire non sono quei titoli che che mi piace quegli strumenti che mi piace tradare qua devo preoccuparmi come quando ho traduto i future cioè devo essere sempre ma al grado di fondo io sappia da che lato andare ma devo essere sempre molto chirurgico perché devo sempre mettere uno stop molto molto vicino ma non vicino dal punto di vista economico vicino dal punto di vista grafico quindi devo essere efficiente nella mia entrata allora il livello c'è anche perché oggettivamente quest'area qui è stata un'area comprata è un'area che poi ha determinato addirittura questi massimi qua e poi dopo addirittura questi qui e vedete che il mercato su questa discesa di minimi più bassi li ha comprati i minimi e poi in effetti ha fatto ha fatto questi massimi credo assoluti questo è la è la cosa è la cosa da vedere quindi se tu mi dicessi questo è un livello da mettere sul grafico io non potrei dirti no assolutamente però come ci dobbiamo comportare in questo modo dobbiamo operare come vi dicevo con stop piccoli cioè devo oggettivamente rischiare poco e come si fa a rischiare poco con entrare in break in quindi non devo comprare con ordine buy limit qua long quando il prezzo sta qua sopra dicendo ok sta a 26 io vado 24 long buy limit sbagliato sbagliato perché perché se quello mi prende e poi crolla e va a 20 o a 10 io sono stato l'unico gradino che è entrato long a quel livello di prezzo lì allora lo devo fare quando il mercato da sopra va giù supera il mio livello ma io non ho fatto nulla e lo va a riassorbire con uno stop sostenibile quindi se adesso il prezzo che sta a 2384 dovesse risalire sopra i minimi della candela rossa cioè la terz'ultima allora in quel caso possiamo anche zoomare a questo punto se vuoi esatto allora in questo caso io vado a mettermi un livello sulla terz'ultima candela vedete e vado a valutare nel caso in cui il prezzo dovesse tornare sopra perché primo caso il mercato buca va giù e non ci torna proprio mi sono evitato uno stop ok è vero che la mia view era long e io ho sbagliato più però è vero che mi è costato zero secondo se il mercato va a che ne so a 18 e torna sopra 24 io comunque 6 dollari di stop non me li prendo 6 euro di stop non me li prendo ok ma se il prezzo ad esempio da 2384 adesso dovrebbe stare sopra 24 e per me 16 centesimi sono accettabili a quel punto lo faccio perché è un livello dove immagino che almeno 16 centesimi di guadagno me li dia ci siete ragazzi questo è l'unico modo per operare su un grafico che a me da lontano non conoscendolo non piace molto non solo poi diciamo che abbiamo visto che statisticamente le analisi di Giambito per generare quello di tutti sono più efficienti sui titoli o sugli asset liquidi che sono molto scambiati mi era arrivata una domanda non so se posso Alan di un amico che mi dice che sta guadagnando parecchio su dei titoli dei stati uniti e sta guadagnando anche sul dollaro e a un certo punto vorrebbe iniziare a frizzare il guadagno per chi ne hanno almeno sulla valuta quando è che deve cominciare a coprire la valuta quindi in termini brevi comprare euro dollaro Gianvino allora guarda euro dollaro tutta quella fascia che stava fra 1.15 e 1.17 ipotizzo l'abbia ormai abbandonata perché vedi tutta l'area dove noi oggettivamente avevamo detto di cominciare a cercare setup long perché vedi che tutta quest'area qui sopra il prezzo aveva provato a tenerla come area ma poi vedi hanno funzionato i breakout dei minimi e il mercato proprio neanche la rivisti i vecchi pavimenti che potrebbero diventare soffitti candela rossa breakout dei minimi breakout dei minimi breakout dei minimi guarda qui vedi che ti fa un hammer nel vuoto perché se andiamo a vedere area da difendere non c'è nulla lì prova a far funzionare i breakout dei massimi vedi vedete qua il mercato prova a far funzionare i breakout dei massimi guardate che fa il giorno dopo boom e ritorna sui minimi quello che vi fa capire ragazzi che qui in long non c'è nessuno solo dollaro nessuno non c'è non ci sono proprio è molto probabile come dicevamo che nel caso in cui non tenesse quell'area lì sopra è chiaro che a quel punto noi strategie long non abbiamo più abbiamo provato svariate volte anche con guadagno a volte intraday o anche di una seduta o due su euro dollaro long ma nel momento in cui il mercato ti fa funzionare il breakout dei minimi a 1 e 15 ragazzi stop non si va più long su euro dollaro ci sono solo strategie short che sono weekly monthly e daily ok e nuovi massimi vengono usati per andare short non per andare long questo è semplicemente quello che bisogna fare come si fa a definire il target di questo movimento a questo punto allunghiamo il grafico fammi vedere tante candele ancora ancora ti faccio vedere sì ti devo fare vedere il continuo allora ecco andiamo a prendere così possiamo vedere anche la piattaforma si fa USA si è mi e si mette l'euro dollaro naturalmente c'è anche il micro il mini però l'analisi si fa sul grafico grande bravissima questa è una cosa che spesso non diciamo esattamente allora puoi anche trattare il micro ma l'analisi farla sempre sul contratto grande questo vale per tutti i contratti micro che come sapete ormai esistono di tantissimi strumenti vedete che questa è una cosa che mi sembra accennavamo anche nel nostro ultimo incontro vedete che nel momento in cui il mercato lascia una zona di supporto e vedete che su questa salita anche qua se noi escludiamo questa parte qui che non ha poi avuto così tanto peso vedete che non ci sono non ci sono stati non ci sono stati soffitti è molto probabile che qui il mercato non abbia pavimenti ed è quindi automaticamente molto probabile che torni esattamente alla base del movimento è difficile che trovi che trovi supporto lì sì probabilmente qui potrà trovare certamente vedete più che questo livello ricordatevi sempre questo livello questo livello perché sono aree da difendere cioè aree dove certamente qualcuno è entrato long questa discesa qua invece come la possiamo in qualche modo vedere visto che è un movimento di lungo periodo come più prese di profitto dei long che probabilmente vedete hanno preso profitto come notate anche bene hanno preso profitto sui massimi venduti non sul massimo assoluto che ha fatto il prezzo vedete questa è la cosa importante da vedere quindi questi massimi qua sono stati determinati dal punto dove in realtà erano entrati precedentemente short su euro dollaro e non ripeto da il massimo assoluto che graficamente da un punto di vista operativo non ha alcun peso Massimo vogliamo fare un regalo a chi ci chiede il natural gas e poi chiudiamo perché siamo in dirittura che dici il natural gas assolutamente tra l'altro l'avevo già preparato allora c'era anche una domanda di un amico sul natural gas così come adesso ci sono le scadenze tecniche in questi giorni attenzionissima perché ci sono sempre movimenti estremi quindi io non vi so dire se di pomeriggio è più ci sono più chiusure di posizioni che altro cercate di essere solo prudenti e magari operiamo appena c'è la nuova scadenza ricordiamo se voi andate nella piattaforma cercate future sul Nimex e andate a vedere sul natural gas che la scadenza di dicembre già scambia di più la scadenza di gennaio scusate che cadrà il 29 dicembre già scambia di più quindi infatti sul grafico in alto a sinistra vedete già la scadenza gennaio quella di dicembre scadrà tra tre giorni quindi lasciate perdere perché ormai non rimanete insomma col cerino accese in mano quindi partiamo alla scadenza di gennaio io in altra sede avevo fatto anche in altri webinar domani mattina farò un'apertura con gli amici di Vision Forex ma qualcuno ci potrà aiutare a ricordare che avevamo fatto anche uno spread tra la scadenza di marzo e quella di aprile ma non è questa la sede andiamo invece insieme con Gianvito ad analizzare il grafico giornaliero piuttosto che weekly sul natural gas fatto questa incredibile salita Gianvito che ne dici? Sì essere prudenti e fare il natural gas è una contraddizione in termini comunque tutte le cose insieme non si riesce a farle però voglio dire si può dire che è uno strumento volatile già solo per la definizione stessa assolutamente sì tutto si può tradare perché a parte scherzi ricordatevi se voi tradate quantità più basse su uno strumento che è fisiologicamente più volatile riuscite comunque a tenere sotto controllo il rischio che è la cosa quindi tutto si può tradare a patto che abbiate appunto lo facciate con la dovuta maniera allora anche qua dei 13 pilastri supranasi tecnica io ragazzi ne sto divulgando semplicemente uno e guardate sempre com'è efficace su qualsiasi strumento il natural gas vi dico la verità io non lo trato per i motivi che vi ho appena detto in maniera scherzosa è troppo volatile è troppo poco liquido per i miei gusti sembra quasi a volte un'azione illiquida a questi sbalzi gap che a me non piace molto però ripeto si può tradare così come si può tradare anche il bitcoin senza nessun problema anche se l'altro giorno vedevo i volumi che ha il contratto maxi ha scambiato quel giorno 7600 contratti 7600 contratti se ci mettiamo io Alan e Max li facciamo noi perché capite bene che oltretutto sui derivati vai a leva quindi non è che ci voglia molto quindi da questo punto di vista io devo andare sempre su strumenti che non siano manipolabili da poche mani forti questo è fondamentale scusa interruzione se siete interessati alle criptovalute abbiamo uno dei massimi esperti italiani che è il nostro amico regista Stefano Bargiacchi quindi il suo canale Telegram prof.stefa delle ottime videoanalisi quindi seguitelo vai allora è molto semplice vedete anche qua così come vi dicevo appunto su Bitcoin se voi andate a vedere le aree da difendere su base weekly sono impressionanti per quanto sono precise e vedete anche qua il mercato ha fatto questa barra di espansione vedete che qua in questa fase qui vedete ha venduto minimi e quindi questa potrebbe essere ad esempio l'area target iniziale per chi è per chi sia stato bravo a mettersi long e vedete che se io vado a tracciare vedete hanno funzionato i breakout di questi massimi qua più o meno è qua vedete un'area che poi verrà aggiustata da che cosa verrà aggiustata dai minimi delle candele che sono state più ravvicinate nel tempo quindi è chiaro che se io devo andare long su quest'ultima candela qua che cosa faccio vado a prendere e quindi ad aggiustare come si dice in gergo l'area su che cosa su il minimo più basso che oltretutto è più ravvicinato nel tempo quindi è perfetto quel livello per andare direttamente long in quell'intorno di prezzo che io sono riuscito a individuare appunto con l'area da difendere quindi qual'era la cosa giusta da fare in questo caso appunto andare long in break in sulla penultima candela bello interessante è soprattutto condivisibile oggettivo anche su uno strumento pericolosissimo appunto mi associo ricordo anche che c'è il mini natural gas che ha meno ticket e più più alla portata di tutti noi ragazzi ci sono 16 e 28 mancano due minuti cosa facciamo facciamo i saluti finali ringraziamo la responsabile Simona ci vediamo il 14 dicembre vi aspetto alla mia mail per essere accolti nel gruppo trader tartarughe vi rimando agli altri eventi il 14 una mattina insieme il 14 pomeriggio Gianvito che sarà anche alle 11 e mezza della mattina con noi e i vari webinar di Gianvito il 17 e il 21 e poi ci auguriamo il Natale insieme ragazzi volete condividere i vostri di recapiti io intanto vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima a partire da domani mattina Vision Fox alle 9 apriamo i mercati insieme facendo vedere la T3 perché ho avuto quella perfetto faccio vedere i miei recapiti così poi ti lascio Gianvito li trovate anche sulla chat 347-28-03-056 oppure anavincenzo.gendusa chiocciolapromotori.bankobpm.it mi raccomando se volete diventare clienti WeBank contattatemi prima che così vi spiego tutto nei minimi dettagli ok vi condivido io per concludere allora questa è la mia la mia pagina su cui se volete potete mettere tranquillamente il like questo è invece il gruppo traders il gruppo di avvicinamento alla superanalisi tecnica anche qua appunto basta appunto essere fare richiesta e c'è un mini questionario da compilare molto veloce molto semplice 5 secondi e se invece non amate i social potete scrivermi una mail a supergianvi chiocciolagmail.com io ringrazio massimo ringrazio alan ringrazio simona ringrazio stefano e vi cedo la linea e sta continuando il ritracciamento dai massimi di giornata è sul access tra l'altro massimo gianvito alan volevo anch'io ringraziare voi e anche le persone da casa perché appunto ci sono un sacco di commenti positivi ringraziamenti anche per me quindi davvero grazie a voi e alla prossima ciao a tutti ciao ragazzi ciao